Amici di Marcosbox, benvenuti in questa 42esima puntata del podcast di Marcosbox. Sto registrando questa puntata in questa uggiosa domenica di novembre, metà novembre, fine novembre, perché oggi è il 17, quindi quasi fine novembre. Piove in quasi tutta Italia, anzi congo l'occasione per fare un abbraccio a tutti quanti lettori di Marcosbox che stanno vivendo momenti di disagio a seguito delle piogge di questi giorni che stanno un po' martorriando la nostra povera Italia. Un abbraccio. Iniziamo la settimana con una non notizia. Mi sentite diversamente, vero? Perché? Perché sono tornato nuovamente al caro vecchio Nexus 4. Ho dovuto portare i momenti in assistenza l'Oxia Rumi Mi A2 Lite, indovinato un po'. Si è ripresentata la macchia gialla sul display. Il dispositivo è stato acquistato ad ottobre dello scorso anno, ad aprile, è stato portato in assistenza la prima volta per la sostituzione del display a seguito di una macchia. Adesso, a novembre, si è ripresentata la macchia in un altro punto, quindi dovranno ricambiare nuovamente il display. Ho colto la parola al bazo per segnalare nuovamente a Xia Rumi perché questa è la quarta volta che lo faccio. Il problema è che affligge il mio device per quanto riguarda la connessione a internet. Non solo il mio, ma diversi utenti che hanno questo dispositivo in tutto il mondo hanno un problema che praticamente se è attivo il GPS e il Bluetooth contemporaneamente sul dispositivo e stiamo collegati a una rete Wi-Fi a 2,4G la velocità cara drasticamente, arrivando al massimo a un paio di megabyte in download. Poi basta disattivare o il GPS o il Bluetooth e la velocità torna a essere quella normale. Xiaomi se ne sta fottendo un anno e mezzo, è un anno anzi che è a conoscenza di questo bug, ma non se ne frega proprio un cavolo. Complimenti Xiaomi per l'assistenza e il mondo in cui stai trattando i clienti che hanno acquistato un tuo device con Android One. Iniziamo la settimana parlando dell'aggiornamento che c'è stato al blog. Non so se avete notato, c'è stato un restyling del tema che trovate su Marcos Box. È stato aggiornato il blog alla versione 4.0 del tema anime, un tema realizzato da Daniel Abel del sito Z Decreation. Io utilizzo la versione free del tema che ho opportunatamente modificato per raggiungerci alcune cose qua a fine di migliorare o meglio di rendere più calzante al mio blog. Il tema è disponibile gratuitamente nella versione free su GitHub, quindi è possibile scaricarlo e personalizzarlo come volete. Ho corto l'occasione anche per fare alcune modifiche. Ho tolto il banner della pubblicità che era presente sul lato, perché tanto non ho mai riscosso un centesimo da quando ho aperto il blog, quindi a questo punto è inutile che lo tengo. Resta soltanto il tastino con la donazione, se volete fare una donazione. E ho aggiornato la favicon del blog. Grazie a Daniele sono riuscito a risolvere il problema della favicon del blog. Adesso è in una risoluzione ottima, ottimale, che è in grado di rendere al meglio sia nella favicon, che è nella miniatura, quella che esce nelle schede recenti di Google Chrome, la stessa cosa su Firefox e quant'altro. Grazie a Daniele per avermi dato la dritta che mi ha fatto risolvere questo problema. Passiamo adesso a una notizia che non c'entra con il mondo del software libero, o meglio non c'entra direttamente con il mondo del software libero. Enea e CNR hanno rilasciato la versione 3.7 del doget, la versione 3.19.10.51, per la cronaca, la chiamano 3.7, non ho capito ancora perché, che è un software per la certificazione energetica degli edifici che si basa su Microsoft Excel. Quindi per poter funzionare necessita di Windows, è gratuito, però necessita di Windows e necessita di Microsoft Excel. Quindi per tutti quanti gli utenti che utilizzano suite alternative, attaccatevi al tram, come come me, o vi dotate di una licenza di Microsoft Office, o con LibreOffice non lo aprirete né more né mai. Tempo fa, se ve lo state chiedendo, io tempo fa ho già scritto agli sviluppatori di Enea e del CNR per avere informazioni in merito a un eventuale porting che possa funzionare con LibreOffice, ma mi è stato detto che non c'è intenzione di farlo. Quindi è gratuito, ma non per tutti. Passiamo adesso a D-Pin. Dopo averci deliziato mostrandoci un'anteprima del nuovo launcher, della nuova Taskbar, questa settimana il team di D-Pin Linux è tornato con un nuovo video e ci ha mostrato la nuova schermata di login che vedremo su D-Pin 20. È davvero carina, interessante, andatevi a guardarla. Poi una notizia che non ho postato su Marcus Box, ma che trovate soltanto sul gruppo Telegram di Marcus Box, riguarda anche i lavori, o meglio, riguarda i lavori che il team di D-Pin Linux sta svolgendo per quanto riguarda una funzionalità di assistente vocale integrata all'interno del sistema operativo. All'interno del gruppo Telegram di Marcus Box trovate il link al video. È in cinese, quindi non ci ho capito un cacchio, quindi non so che cosa, come funziona meglio. Comunque andatelo a vedere, è una video-anteprima. Cioè, si capisce che è appunto un assistente vocale. Il team di D-Pin sta veramente lavorando bene, saranno i soldi che sta ricevendo grazie alla partnership che ha intrapreso con Huawei. Speriamo che poi questi miglioramenti vengano restituiti sotto forma di codice aperto, in modo tale che ne possiamo beneficiare anche noi, utenti Linux di AltreDistro. Comunque, interessante. Passiamo adesso a Linux Mint 19.3. In un precedente articolo su Linux Mint vi avevo parlato della decisione del team di sviluppo di introdurre Celluloid al posto di X-Player e G-Note al posto di Tomboi. Quindi due sostituzioni di due applicazioni che normalmente facevano parte dei software preinstallati su Linux Mint, una delle quali X-Player e anche una delle X-App, le applicazioni che il team di Linux Mint aveva sviluppato appositamente per le sue edizioni. Bene, a quanto pare ci sarà un'altra sostituzione? Andando a leggere la roadmap pubblicata su GitHub, è possibile vedere che il team di Linux Mint ha deciso di rimuovere dalle applicazioni preinstallate con la distro Gimp. A suo posto verrà introdotto Drawing, che è un progetto open source, naturalmente, che trovate su GitHub. Non è un progetto molto conosciuto. Si tratta in definitiva di praticamente un Microsoft Paint, un editor di immagini molto basa alla Microsoft Paint, tanto per capirci, che si integra con i principali desktop environment basati sulle GTK, quindi perfetto, tra virgolette, per Linux Mint, che nelle sue edizioni Cinnamon, Mate e X-FCN. Drawing è stato già forcato sul repository di GitHub di Linux Mint, e quindi lo vedremo sulla 19.3 come applicazione predefinita, preinstallata, per l'editing di immagini. A leggere le parole di Clem, il patron di Linux Mint, le motivazioni sono marie che hanno portato a questa scelta, e risinono principalmente nei problemi connessi alla supporta HDPI di Gimp e al fatto che Gimp è uno strumento troppo avanzato per gli utenti occasionali, quindi mettiamo qualche cosa di più semplice. Non so se alla lunga questo possa rivelarsi una scelta sensata, anche e soprattutto considerando il fatto che Drawing non è un progetto storico che ha qualcuno alle spalle che lo porta avanti da anni, ma è un progetto molto amatoriale, diciamo così. Vedremo come si comporterà i team di Linux Mint, anche in virtù e soprattutto del fatto che l'anno prossimo uscirà la nuova LTS, quindi ci vedremo questo software, lo dovranno mantenere per gli anni a venire. Ultima notizia della settimana, una notizia riguardante Brave Browser. Qualche giorno fa è arrivata la versione 1.0 di Brave, è l'ennesimo browser open source basato su Chromium, quindi con tutti i pro e i contro di questa scelta, è stato nato dalla mente di Brandon Aitchi, cofondatore di Mozilla, nonché creatore di JavaScript. Quali sono le caratteristiche principali? Allora, loro vantano una velocità, o meglio, mi cantano per il butto di così, quel che emerge è che ha una velocità maggiore rispetto a Google Chrome. Questo anche e soprattutto in virtù del fatto che integra una funzionalità di blocco degli annunci, funzionalità antitracking e quindi, diciamo così, riduce il tempo di caricamento delle pagine, quindi sono funzionalità native già integrate all'interno del browser. Quindi, non dovrete installare estensioni di terze parti per poter avere queste funzionalità. Fra l'altro, supporta anche le estensioni di Google Chrome. Una cosa carina, per esempio, è stata il fatto che non appena mi sono ritrovato a navigare su un sito internet non in lingua italiana, mi è stato subito proposto di installare l'estensione che fa da traduttore, quindi utilizza l'engine, le API di Google per Google Translate, quindi c'è la funzione di traduzione automatica. Qual è la particolarità comunque di questo browser? Perché non è la particolarità, la cosa principale non è il fatto che abbia una funzione di blocco degli annunci e antitracking, perché ci sono anche altri browser che hanno queste funzionalità integrate e che lo fanno anche meglio, soprattutto il fatto dell'antitracking. Firefox ha dalla sua diverse funzionalità di antitracking che con le ultime versioni sono arrivate anche su lato desktop e lato mobile tramite Firefox Preview. La funzionalità principale di Brave che lo caratterizza rispetto agli atti browser è un sistema che consente di ottenere tramite un programma chiamato Brave Rewards, attivando questa funzionalità guadagneremo guardando annunci pubblicitari che potremo poi utilizzare per sostenere i nostri siti preferiti semplicemente navigando o effettuando una donazione ad ogni sito, ogni volta che vorremmo, ogni sito che naturalmente dovrà essere abilitato alla funzione Brave Rewards. Se, ve lo state già chiedendo, lo so, su Marcosbox non c'è iscrizione al programma, al suddetto programma di Brave Rewards, perché per blogger, a quanto pare, non c'è la possibilità ancora di poterlo fare. Quindi, se navigate con Brave Browser e volete effettuare una donazione su Marcosbox tramite questo sistema, non potete farlo. E non credo che lo farete mai perché, visto e considerato che è una cosa molto vecchia, ma sembra essere legata a un problema di dominio di primo livello che è necessario, quindi non credo possa arrivare così come nel breve periodo. Quindi penso proprio che su blogger non ci sarà mai questo supporto. Comunque, su Marcosbox vi spiego come installare Brave su Ubuntu e Derivate e vi lascio il link che vi spiego come poterlo installare anche su altre distribuzioni. Tra l'altro, cosa interessante è che il team di Manjaro, subito dopo il rilascio della versione 1.0 di Brave, ha lanciato un sondaggio su Twitter nel quale chiedeva agli utenti se fosse il caso di passare a Brave come browser predefinito o mantenere Firefox. Ma, a meno da quel che ho visto con l'ultimo andazzo, sembra che Firefox avrà lunga vita su Manjaro perché gli utenti continuano a preferire Firefox. Bene, con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci sentiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Grazie a tutti. Grazie a tutti.